Dare la parola al consigliere nazionale Armando Tocci e volevo in un certo qual modo anche farle una domanda. Come viene vissuto il ritrovamento del relitto dalla Marina Militare Italiana? Grazie per la domanda. Tutto ciò che si è verificato, è vero, è fatto una cronostoria che indubbiamente è quella storica, quindi si è attenuto particolarmente a quelli che sono gli eventi che sono stati. Parlarne dopo 63 anni credo che siano trascorsi, è vero, dal fatto dell'affondamento è chiaro che acquisisce poi un significato davvero particolare. Io vorrei unirmi un po' agli ringraziamenti che aveva fatto il signor Bergamini perché se oggi noi parliamo e abbiamo localizzato questo punto esatto in cui andare a deporre dei fiori, come diceva giustamente lei, lo si deve veramente a questo ingegnere, questo ingegnere Caparpio, un uomo di mare, un uomo che vive sul mare questo signore qua, perché praticamente la sua vita la vive su un catamarano, lui la signora e una figlia che girano il mondo facendo questo. E sono riusciti a localizzare questo relitto, è vero, questo sacrario, perché ormai noi gente di mare lo chiamiamo tale, è un sacrario, è una tomba di questi marinai, è riuscito a localizzarlo grazie a delle tecnologie personali che lui è riuscito a mettere in atto, e di questo mini battiscafo che è Plutopalla, se non sbaglio si chiama, Plutopalla che riesce, vero, Plutopalla che riesce ad arrivare a mille metri di profondità con una certa esattezza. Quindi questa è una cosa, però ecco io non vorrei banalizzare, perché potrei essere ripetitivo sulle cose che sono state dette, però volevo fare solo due riflessioni molto brevi. La prima, la tragedia della guerra, lo diceva Lomorevole magari poco fa, effettivamente, guardate, per fortuna noi ci siamo tolti dal secolo scorso, perché in 50 anni il Novecento ci ha regalato due guerre mondiali che sono state disastrose, enormi, perdite, vite umane, verse, è stata qualcosa di tragedia, due guerre mondiali, figuriamoci, è tutta una serie poi di guerre minori, chiamiamole così, la Spagna, la Colonia, tutto quello che si è verificato, quindi è un qualche cosa che ci dobbiamo veramente dimenticare. La nave Roma, una cosa che mi veniva in mente quando veniva esposto i fatti, è stata una nave sfortunata, secondo me, per il semplice fatto che non ha fatto un combattimento, non ha mai visto il nemico, perché si è stata varata quando la guerra era già iniziata, praticamente, è stata allestita e armata fino a tutto il 42-43, il 43 ha subito qualche danno alla fonda di La Spezia, perché negli alleati, gli inglesi, qualche bomba anche loro la lanciava e quindi gli hanno fatto vedere, dopodiché è dovuto rientrare nuovamente per farsi assistere in Arsenale, un po' a Genova e un po' alla Spezia, quindi ha avuto questo, è stata una nave sfortunata, dopodiché in quest'ultimo percorso che ha fatto questo viaggio verso un'ipotetica salvezza, che doveva essere Maddalena prima, Bona dopo e successivamente Malta, purtroppo è andata a finire come il comandante ci diceva. Un'altra brevissima considerazione, dopodiché lascio ovviamente un pensiero ai naufraghi, non se ne è parlato. Ci furono 700 naufraghi che furono recuperati, ripescati, immaginiamoci un pochettino con che confusione si andavano a pescare questi naufraghi perché poi le altre navi per forza di cose hanno dovuto proseguire il loro percorso e questi naufraghi furono portati in Spagna, che era neutrale all'epoca, alle Baleari, Porto Maon, alle Baleari e lì furono, devo dire la verità, almeno da quello che dice la storia, sono stati umanamente trattati. Ne venivano solamente 7-8, se ricordo bene, gli altri bene o male, all'ospedale che c'era, dopodiché gli altri furono tranquillamente rimpatriati e grazie a Dio non hanno avuto grossi problemi. L'altra riflessione, che è l'ultima che faccio, io abito all'interno di queste parti qui e ho un socio della classe del 22, quindi una persona anziana, al quale vado a fare visita periodicamente, abita a Mongrassano questo signore qua, e sono andato a visitarlo proprio di recente perché non sta tanto bene e mi ha parlato, gli ho detto, dice guarda è stato trovato a Roma eccetera eccetera e allora lui con la sua commozione, come abbiamo sentito poco fa, mi raccontava che lui era stato affondato anche lui perché lui portavano la benzina Avion su dei fusti, ne erano legati in coperta perché non potevano metterli sopra perché li portavano in Africa, era sul Bantenere o sul Dagiussano, uno dei due, fu affondato e mi parlava del mare che letteralmente bruciava perché portando la benzina Avion comprendete bene che aveva una capacità di combustibile enorme e lui si è salvato attaccandosi a un salvagente, però solamente alla Gomena, attaccandosi solo a quel pezzo di cima è rimasto lì per qualcosa come 12 ore, quando non ce la faceva più fu pescato e lui aveva un compagno di corso che era imbarcato sulla nave Roma e allora quando poi lui fu ripescato si sono sentiti con questo compagno di corso e allora lui lo invidiava perché diceva bello te che sei ai lavori perché nave Roma era ancora ai lavori invece sono stato affondato e ecco il destino poi ha capovolto tutte le cose perché il suo compagno di corso con la nave Roma fu affondato mentre invece questo signore ha avuto la fortuna di raccontarmi ancora queste cose qui e io appunto volevo ringraziare però anche io unirmi a ringraziamenti che diceva l'onorevole Magherò con l'amministrazione comunale, l'associazione dei Marine d'Italia che hanno organizzato questa bella serata e un saluto lo faccio anche agli ufficiali di Marina che sono qui presenti, sotto ufficiali, la gente che partecipa con grande passione a questa pagina di storia che può assicurare che qualcuno annoia pure e ovviamente un saluto caloroso lo devo fare al figlio della Miraglio Bergamini e naturalmente alle signore che ho visto che sono in sala ecco, vi ringrazio ovviamente se qualcuno dal pubblico vuole esprimere, vuole raccontare un'esperienza vuole fare una riflessione sono ben accette siamo qui a posto e se qualcuno vuole fare un intervento basta soltanto segnalarlo e vi daremo il pubblico